ciao a tutti io sono collis ho due anni mi chiamano coccodrillo io sono lupo e sono detto paul newman per via dei miei occhi blu 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 e io sono orso ho 13 anni appena compiuti e siamo i figli pelosi di rettore ciao colli a due ha fatto due anni a luglio io l'ho compiuto il 8 lui ha compiuto il 6 per cui siamo due cancerini è un cane molto affettuoso un cane che è anche un po solitario forse credo uno dei più grandi cani che io abbia mai avuto nella mia vita sono legatissima orso perché e penso che sia e viceversa forse il lupo ha sei anni è un cane molto potente molto forte e proprio la sua è un cane dinamico è un cane che un cane volante i miei cani mi assomigliano perché come me sono molto vivaci incapaci di di stare ferma ho cominciato 20 anni fa a fare la giri perché il cane non è solo il cane che va a prendere il giornale lo porta il padrone cane può avere una relazione con te più profonda il border colli capisce un sacco di parole non solo io gli parlo sia in tedesco che in inglese in francese lui capisce tutto compreso il benetone bravo un grattino sulla pancia glielo faccio perché loro adorano il grattino sulla pancia sei pronto per fare back sali 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 tocca 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 e questa è la balizzata passerella dai dai è in fondo tocca tocca fermo bravo ormai c'è una simbiosi completa e guai se non ci fossero quando delle volte per lavoro devo lasciarli o la dorksit o comunque sempre persone strafidatissime e la notte in albergo non dormo tanto bene è come abbandonare se stessi abbandonare un animale ricordate non lo fate mai un saluto a tutti coloro che amano la natura e gli animali siate sempre dalla parte degli animali perché se siete dalla parte degli animali siete con voi stessi vi ritroverete sempre buona vita ciao